Salutiamoci 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 Salute Salutiamoci Salutiamoci messa a punto la barca, c'è una vera e propria ispezione da parte dell'organizzazione e poi si parte essendo assistiti ma solo dal satellite con le previsioni meteo, ma dopo la partenza le barche si perdono, quindi si viaggia praticamente da soli. Che significa competenza, professionalità ma soprattutto anche molta preparazione fisica? E' un mix di tutte queste cose, io direi che l'aspetto psicologico non è da sottovalutare perché noi siamo abituati anche a fare le traversate adriatiche della durata di un giorno, lì la traversata vera e propria dalla Capoverde a San Lucia è durata per la nostra imbarcazione 14 giorni e mezzo, quindi 14 giorni e mezzo che non si vede altro che cielo e mare. Senti Antonio, molte volte si corre il rischio di porre delle domande banali, ma quando si sta da soli in mare aperto che cosa si prova? Il senso dell'immenso, nel senso che quando si sta in Atlantico il cielo stellato è favoloso perché non c'è inquinamento luminoso, non si prova solitudine, è un periodo di riflessione e di introspezione. Senti, e giusto qualche altro istante se ci vuoi parlare un po' a proposito di questa esperienza, diciamo dei tuoi amici, cioè dei collaboratori, cioè della gente che poi ha navigato con te. Io mi sono imbarcato su una barca americana, l'equipaggio era decisamente variegato perché c'erano i due proprietari americani, poi c'era una coppia di inglesi e un mio carissimo amico Ross Anderson, inglese anche egli. Possiamo dire che siete stati un mix, hai detto variegato, ma conosciuti per caso? Sì, perché ci siamo conosciuti, ovviamente io ho mandato una mia candidatura, loro hanno esaminato il mio curriculum e quindi mi hanno accolto a bordo. Questo, diciamolo pure, perché a volte possono apparire delle cose già programmate, invece a volte sono delle cose apparentemente improvvisate, ma in realtà poi tutto viene letteralmente pianificato, no? Sì, prima della regata abbiamo seguito una serie di seminari sulla sicurezza in mare, sull'emergenza, la meteorologia, anche la cambusa ha un suo aspetto importante perché ovviamente per un periodo così lungo non abbiamo frigoriferi capaci di accogliere cibi freschi, per cui va programmata una dieta all'inizio basata su cibi freschi e poi man mano su cibi conservati. Allora, adesso dalla traversata atlantica passiamo un po' come dire alle gare meno importanti, ma che ti hanno comunque lo stesso temprato. Tu hai fatto anche delle gare che hanno toccato un po' il Mediterraneo, l'Adriatico, non vogliamo fare cenno? Sì, io ho fatto diverse edizioni della Brindisi Corfu, tante edizioni dell'S105 che parte da Bari arriva a Erzegnovi nelle Bocche di Cattaro e il Sofio Pennetti che… La mia ignoranza, però questo mi devi ricordare perché non mi ricordo dove sono queste Bocche di Cattaro. Bocche di Cattaro in Montenegro, mentre la Trani Dubrovnik che è l'ultima regata svolta a luglio, parte da Trani ovviamente e arriva a Dubrovnik. Questo a livello agonistico, poi ovviamente ci sono tantissime vacanze fatte in Croazia, in Grigia, in Montenegro. Allora, entriamo più nel vivo proprio della nostra chiacchierata che spero possa essere piacevole anche per voi. Questo benedetto Scafo, su questo Scafo Antonio ci sta lavorando da un bel po', perché? Adesso è arrivato il momento in cui ce lo devi dire tu perché. Sì, questo è un mio vecchio progetto, nel senso il progetto è abbastanza datato, ho iniziato la costruzione parecchi anni fa. ultimamente quando ci stiamo avvicinando al Varo ho pensato di fare un'impresa tra virgolette il giro dell'Asiatico a bordo di questa barca. Considerate che è una barca poco accogliente perché è 5 metri e mezzo di lunghezza, senza cabina e quindi senza bagno, senza comodità. Se no sarebbe una vacanza, insomma. No, ma ecco, quello che mi preme sottolineare, amici ascoltatori, è che Antonio ha letteralmente prodotto tutto da sé. Per cui adesso poi vi mostreremo anche, come dire, una sorta di bottega all'aperto, no? Come dire, proprio tutti gli attrezzi con i quali lui ha realizzato e prodotto tutto questo. Ecco, ma vorrei che tu sottolineassi anche il piacere con cui fai queste cose. Beh, ovviamente senza piacere non si potrebbe costruire una barca. Quando ho pensato di iniziare questa costruzione, ovviamente ho letto qualche articolo e tutti erano concordi nel dire che bisogna essere pazzi per cominciare a costruirsi una barca. Proprio una vena di sana follia, no? Ovviamente, senza di questo la vita sarebbe sterile, insomma. E monotona. Ma senti, Antonio, allora, è la domanda quasi solida che si pone, ma te la pongo lo stesso. Quali sono state, diciamo, le difficoltà maggiori e poi quali sono i materiali, gli elementi con cui tu hai realizzato questo scafo? Che non è finito ancora. No, beh, le difficoltà sono quelle nella costruzione dello scafo, tutta la piegatura dei vari listelli in legno. E poi metodi di costruzione nuovi, cioè ovviamente io non sono un maestro d'ascia, non sono un esperto di costruzioni navali, quindi bisogna studiare molto, curiosare, oggi siamo fortunati, lo possiamo fare su internet, e cercare di acquisire la tecnica per una costruzione di questo tipo. Poi molta inventiva, ovviamente. Cioè hai adattato un po' al tuo estero tutta questa realizzazione, no? E beh, ovviamente, man mano che la costruzione andava avanti, c'erano delle determinate problematiche che sono state risolte con un po' di inventiva, appunto. Ma questa attraversata la farai da solo l'anno prossimo? Io ho programmato 13 tappe, 13 macro tappe. E francamente spero di essere in compagnia, nel senso che inviterò tutti gli amici e tutti gli interessati a partecipare ad una di queste macro tappe. Se non dovessi trovare compagni di viaggio in qualche tratto, ovviamente navigherò da solo. Cioè questo significa che hai già programmato tutte le 13 tappe che ti consentiranno poi, diciamo questa attraversata, ma nell'arco temporale di? Tre mesi. Sono 1300 miglia, ovviamente stiamo parlando di una distanza retta, mentre con la barca a vela, chi naviga a vela sa che non è così, le distanze aumentano perché bisogna fare i diversi bordi a seconda del vento che si incontra. Senti Antonio, un'ultima domanda. Allora tu dovresti partire da? La partenza prevista da Corfu. Vogliamo ricordare che comunque tutto è programmato per l'anno prossimo, 2018, vero? Sì, partenza a giugno dell'anno prossimo da Corfu e rientro a Molfetta. Ovviamente a me piace dire via Trieste perché se no sarebbe un Corfu-Molfetta sarebbe molto più breve. Allora noi ringraziamo Antonio Totta Giancaspro per questa sua sempre solita gentile disponibilità, però vi anticipo che non lasceremo da solo lui, nel senso che poi lo seguiremo. Ma un'ultima domanda, ci sono stati sponsor perché immagino che poi abbia delle spese tutta questa organizzazione, no? Sicuramente, io devo ringraziare Franco Sancilio, Enzo De Candia della Farmacia De Candia e Francesco Ragno della gioielleria Ragno che mi hanno supportato, mi supportano da due anni e continueranno a supportarmi per consentire tutta la realizzazione di questo Giro dell'Adriatico. Come vedete il fai da te è sempre dei costi. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi rimando ad un prossimo appuntamento. Buon proseguimento con le nostre trasmissioni. Noi vi ringraziamo per le nostre trasmissioni.